E' un'emozione emozionante perché impari ad aiutare la gente e ad aiutare il prossimo se hai in difficoltà e impari anche a fare un lavoro di squadra. Se un compagno ha bisogno non continui a fare il tuo lavoro ma cerchi di aiutarlo, quindi è anche un'esperienza molto positiva per te stesso. Gloria Berti, 15 anni, studentessa del liceo tecnologico, già allieva vigile del fuoco volontario di Ala dal 2012, è uno dei dieci componenti del corpo dei pompieri studenti del Fontana di Roverito, molto compresa nel suo ruolo e già una veterana. Il capo dei vigili del fuoco è Lorenzo Cuell, 17 anni, che frequenta la terza Geometri, già vigile del fuoco volontario di Forreria, appena diventato effettivo. Il professor Ceccato ci ha convocato noi studenti che proveniamo dai vari corpi di vigili del fuoco volontari della zona per formare un nucleo interno di vigili del fuoco, appunto, di cui io sono il capogruppo. Mettiamo a disposizione le competenze in qualità di prevenzione incendio e servizi antincendi. La cultura della sicurezza fa parte del DNA del Fontana di Roverito, erede della storica scuola reale Elisabettina. 700 studenti, 100 docenti, oltre al personale ATA, soprattutto per la presenza dei corsi per geometri, che hanno collaborato anche alla progettazione di alcuni manufatti che sono stati montati sul cancello esterno e sulle ringhiere interne delle scale. Grazie per la visione! Grazie per la visione!